come faccio a diventare come te numero uno non c'è nessuno come me se volessi anche solo avvicinarti dovresti studiare medicina diventare psichiatra lavorare in manicomio innamorarti di un paziente scappare col paziente dal manicomio diventare una criminale saltare nei rifiuti tossici per conquistare un pazzo e farti arrestare da batman tornare in galera uscirne con una bomba al collo salvare il mondo tornare in galera evadere poi rompere col suo menzionato pazzo e metterti in proprio ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti